Veniamo al tema e il tema è proprio quello di come stimolare emozioni attraverso le tensioni emotive. Noi quando comunichiamo l'obiettivo dovrebbe essere quello di dare emozioni, perché nel momento in cui diamo emozioni riusciamo a, diciamo, a coinvolgere la persona che ci interessa. E ovviamente noi parlando usiamo prevalentemente la parola. La parola interessa la sfera logico-razionale, però anche la parola può essere investita, diciamo così, di un'emozione se viene utilizzata in modo particolare, cioè andando ad amplificare emozioni già presenti all'interno della persona. Quindi generare tensione. La tensione è proprio quell'elemento che la parte emotiva riconosce piacevole. La parte logica un po' meno, però la parte emotiva lo riconosce piacevole. Quindi se noi vogliamo conquistare, se noi vogliamo sedurre la persona che ci interessa, dobbiamo iniziare ad utilizzare delle parole che possano creare emozione, delle parole che possano creare tensione. Questo è l'unico modo vero per coinvolgere qualcuno. In che modo possiamo utilizzare e creare delle tensioni? Beh, teniamo presente che ad esempio ci sono persone che vivono in qualche modo, come dire, una sessualità legata più alla sfera emozionale. E quindi la sessualità spesso rappresenta un veicolo di tensione. Ovviamente per creare emotività dobbiamo parlare di sesso indirettamente. All'interno di un discorso possiamo utilizzare parole del tipo, ma adesso voglio farti penetrare bene da questo discorso e lascia che ti entri dentro e che possa attecchire dentro di te. Oppure dobbiamo penetrare il mercato con questo nuovo prodotto. Ecco, tutte queste frasi, diciamo, fanno sì che le parole vengano anche, diciamo, disinnescano una valenza logica, perché la parte logica l'interpreta da un punto di vista logico, ma la parte emotiva lo interpreta da un certo punto di vista emotivo, quindi va a collegarlo a una carica sessuale. E ovviamente la sessualità, se non viene espressa, non viene manifestata, genera delle tensioni. Ad esempio potrei dire, avrei da fare, dovrei parlarti, avrei da fare un discorso lungo. Sarà, penso sarà duro dirti tutto questo, ma dovrò farlo. Oppure ho un grosso argomento per le mani che dobbiamo dipanare, e tossisco, e insomma, anche questa è un'altra metafora, diciamo, legata al fallo. Altre parole che noi possiamo utilizzare sempre in modo indiretto, in modo subliminale, per generare tensione è quello legato al piacere. Dovresti venire a casa prima e fare tutto quello che devi fare. Oppure delle frasi, diciamo, dovresti aprirti un po' di più, lasciarti andare, affinché questo discorso possa veramente entrare dentro di te fino in fondo. Ecco, vanno utilizzate, diciamo, nel modo giusto questi stimoli. Comunque possono essere di due tipologie, fondamentalmente. Noi possiamo dare stimoli etero-attributivi, cioè che, diciamo, qualcosa legato all'esterno, che può essere collegato alla persona, potrebbe essere il padre, la madre, una persona esterna. Ma, e quindi questi stimoli etero-attributivi, etero nel senso eteros, diverso, vuol dire che sono legati a, diciamo, a fatti, a un referente esterno, fondamentalmente. Però noi possiamo anche stimolare utilizzando degli stimoli legati direttamente alla persona, quindi stimoli auto-attributivi, cioè legati direttamente alla persona. Andare a stimolare veramente, magari, le inefficienze della persona dovute alla persona stessa. Questi simboli, diciamo, queste tensioni emotive hanno una forte, una forte valenza perché vanno ad alimentare. E, ovviamente, noi possiamo utilizzare, diciamo, questo linguaggio metaforico poi in diversi settori. Non andare a stimolare soltanto la sessualità. Ho fatto un esempio con la sessualità. Però ci sono anche altre aree esistenziali che possiamo andare a stimolare. Ad esempio, la famiglia d'origine. Se noi diciamo, ad esempio, che ne so, l'azienda madre è stata tradita perché bla bla bla. Oppure, ecco, e quindi inserire parole legate alla madre, al tradimento della madre. Molte persone hanno vissuto, hanno percepito di aver vissuto un tradimento. Oppure l'azienda madre ci ha tradito. Hanno vissuto, ad esempio, molti uomini il tradimento da parte della madre. Tu stai parlando dell'azienda, ma dici l'azienda madre ci ha tradito. E quindi è come se dicessi la madre ci ha tradito. Se lui ha percepito, ha vissuto, diciamo così, un tradimento delle aspettative da parte della madre, sicuramente questo può andargli a dare emozioni. Potrebbe essere legato al, diciamo, ai rapporti anche nel denaro, nel lavoro. Ad esempio, parli come va, come sta andando il tuo lavoro. Un lavoro, quali sono i rapporti col denaro, ad esempio. Sono tutte altre frasi che noi possiamo utilizzare per cercare di capire lì dove possiamo rendere un servizio emotivo alla sfera emozionale. Diciamo che lì dove riusciamo a rendere un servizio emotivo alla sfera emozionale, attraverso la parola, questa comunicazione da verbale diventa non verbale. E quindi noi stiamo dando emozioni, fondamentalmente. E la parte emotiva della persona, della persona che in questo caso ci interessa, inizia a percepire, diciamo, a percepirci come significativi. Perché gli stiamo dando un quidio di emozioni. Queste emozioni vanno sicuramente a rappresentare quanto sia importante per questa persona. Ecco, quindi che agendo in questo modo noi possiamo ottenere tutti i risultati che vogliamo, in modo anche molto molto rapido. Bene, ti ricordo che per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alla live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione del seminario del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E ti ricordo ovviamente di iscriverti anche al mio nuovissimo canale Esoterismo e spiritualità con Massimo Tramasco, canale che spero ti piaccia e possa darti qualcosa di positivo.